Non vi confondete dal colore della camicia che è il rosso nero perché io stasera lo ammetto non ho tifato United Come molti ho tifato Ajax però c'è da dire che Mourinho ha messo in campo dall'inizio del torneo la squadra che era sul campo alla favorita e ha vinto questa competizione Non con il gioco, anche stasera lo ha dimostrato non avere un grande gioco avendo anche tanti talenti in squadra Però un po' come Allegri nel suo piccolo ai campioni rosa Non è semplice vincere con tanta qualità in campo però gli sa dare un giusto equilibrio in campo e non ha fatto passare quasi niente All'Ajax è una squadra che di giovani ha fatto il suo talento e tutta la qualità l'ha fatta vedere dall'inizio, dai gironi, da tutto il percorso che si è fatto Buttando a casa il Lione e tante altre squadre al Manchester che invece con un girone molto più semplice di quello dell'Ajax Ma affrontando poi Ander, Rostov, Saint-Etienne, insomma squadre così, Salta di Vigo È riuscita a prendersi questa Europa League, dall'inizio se lo strameritava E senza Ibrahimovic, senza Belis, ossia gli acquisti che avevano fatto a inizio anno Quindi Mourinho bisogna dargli merito Questa squadra va in Champions League e sarà la quinta squadra inglese dopo Liverpool, Chelsea, Tottenham Liverpool sì, con i preliminari e Manchester City, quindi il prossimo anno non è una bella notizia per il ranking italiano Anche se ci andranno al prossimo anno quattro squadre italiane, la quarta con il preliminare Indipendentemente dal fatto che l'Italia al prossimo anno possa uscire subito al primo turno con tutte le squadre o meno Perché così ha destabilito la UEFA Però insomma l'Inghilterra al prossimo anno prenderà tanti punti perché avendo 4-5 squadre è meglio Ma parliamo della partita, comunque bisogna dire il grande merito a Mourinho che ha messo in campo una squadra con Rashford Che mi è piaciuta tanto, mi è piaciuto Pogba che alla fine ha vinto qualcosa Noi Juventini abbiamo avuto tanto male quando se n'è andato però questa coppetta se l'è presa Vediamo se rimpiangerà di aver lasciato la Juventus per la Champions, questo non si sa De Gea non c'è, c'è sempre stato Romero in porta Come hanno detto prima in televisione, secondo me è il miglior secondo portiere nel mondo Perché da quando c'è lui Lovinati non prende quasi mai gol Quindi un muro hanno messo anche lì davanti Darmian mi è piaciuto, Runei l'ha messo tanto alla fine Quello è l'unico dispiacere nel venere lo United e Runei così tante volte subentare dalla panchina Perché non è proprio un feeling completo con Mourinho Certo che mi aspettavo un pochino di più dall'Aiaz anche se devo dire è stato veramente murato Soprattutto con davanti gli attaccanti Traoré del 95 e Dolberg del 97 Che il prossimo anno ci sarà tutta Europa con gli occhi su questa squadra Perché il più giovane se non sbaglio era Shone dell'86 Poi una media età di 23 anni Tra tutti anche Veltman il terzino, il difensore Ora non mi ricordo il nome, quello scuro di Pelleton viene il nome Richard Velocissimo, prenderanno sicuramente qualche altra squadra L'Aiaz ha dimostrato che se l'è meritata questa finale Mi è venuta un po' di rabbia perché magari lì davanti alla porta erano un po' troppo con i colpi di tacco Doveva andare più sul concreto e non hanno tirato troppe volte Quando in realtà dall'inizio dell'area si può anche tirare Hanno cercato troppo la scioccata di Fino Comunque complimenti a tutte e due le squadre Complimenti all'Aiaz che ci ha fatto divertire con il suo calcio in tutto il torneo Perché chapeau a sta squadra, all'allenatore E niente, lo United alla fine, ripeto, era la favorita dall'inizio Da quando hanno detto che nell'Europa League c'erano un determinato tipo di squadre Secondo me insieme alla Roma Che secondo me può avere rimpianti per non essere stata in finale al posto dell'Aiaz Perché se riusciva a battere Lione secondo me poteva farcela Lo United non so se in finale avrebbe battuto la Roma Perché la Roma magari ha più esperienza di quello che ha l'Aiaz Per troppi giovani, sì alla fine però non sono stati molto completi tatticamente Infatti nel primo tempo alla fine era più una gara che pendeva il pallone Un muro ha messo Murigno, non ha messo il pulmino Perché comunque è il solito dire così nelle partite di Murigno Però ha difeso bene, tatticamente La vittoria va data da lui Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Sto preparando un bello speciale che uscirà o domani se riesco o venerdì E vi ricordo che la settimana che andrà dal lunedì prossimo fino a sabato con la finale Uscirà circa un video al giorno sulla finale di Juventus al Madrid Portando tanti tipi diversi di video con format diversi Quindi ci vediamo in quei video Soprattutto per chi voglio carichi con i like anche in questo Bella ragazzuoli Soprattutto per chi voglio carichi con i like anche in questo video